E riaccomi qui che torno giusto giusto solo per avvisarvi dell'esistenza dei nuovi abbonamenti a questo canale Che cosa sono gli abbonamenti? Significa per caso che non ci si può più iscrivere a YouTube gratuitamente come sempre? O che io ho intenzione di non fare più le cose che facevo prima gratuitamente in questo canale? Ma neanche per sogni ovviamente Al contrario, ho intenzione di fare molto più di prima Per tutti gli iscritti, per gli iscritti in modalità gratuita Vorrei offrire dei contenuti un pochettino più ambiziosi e consistenti rispetto a quanto non ho fatto fino adesso Riguardanti temi di attualità, moda, musica, spettacolo, cinema, letteratura, cultura, spiritualità, benessere e crescita personale L'esistenza degli abbonamenti non toglie qualcosa alla normale frizione di YouTube in modalità gratuita per tutti gli iscritti Gli abbonamenti fanno sì che chi lo desidera possa ottenere un qualche cosa di personalizzato Ho deciso di rendere disponibile per gli abbonati la possibilità di consultare me Per ottenere un qualcosa che io trovo comunque a livello socio-antropologico particolarmente interessante Consultare quelli che io considero i tarocchi psicologici Quindi non tanto per predire il futuro quanto per comprendere meglio il momento in cui siamo Da che cosa siamo mossi e se stiamo facendo le cose giuste per esempio Per realizzare i nostri desideri, i nostri obiettivi O dove è più consigliabile orientarci Oppure la lettura dell'oracolo dei Ching nel libro dei mutamenti di Confucio Che qualcuno di voi saprà è alla base della filosofia jungiana di Carl Gustav Jung Uno dei padri degli studi della psico-umana E lo stesso di Cassia anche per l'interpretazione dei sogni Siccome da sempre studio e mi appassiono anche questi argomenti Anche se può sembrare strano per un appassionata di tecnologia, droni, cinema, informatica, computer e montaggio video Ma effettivamente anche se può sembrare un controsenso è così Chi si abbonerà al canale nel livello base diciamo quasi simbolico come supporter Avrà l'accesso alle live chat Nel caso di streaming live le cui chat siano riservate agli abbonati Oltre a delle opzioni esclusive per esempio i messaggi in evidenza in chat Emoji particolari, stickers personalizzati e altro Mentre per il livello intermedio ci sarà la possibilità di partecipare a dei contenuti video Dei live streaming dedicati alla lettura dei tarocchi Poi per il livello avanzato avrete modo di ottenere un consulto privato O con i tarocchi o con i ching a vostra scelta E poi c'è il livello top che vi consente di avere due consulti privati Ma potrete scegliere non solo tra tarocchi e i ching ma anche l'interpretazione dei sogni Quindi spero che questa opzione in più possa far piacere a qualcuno di voi E che dire se vorrete sperimentare queste nuove cose insieme Io non posso che esserne entusiasta e quindi vi aspetto qua